8 dicembre inizia la stagione turistica invernale nelle montagne olimpiche, riaprono le gallerie di porte sulla strada provinciale 23 del Sestriere, ne parliamo con Jacopo Suppo, vice sindaco metropolitano che ha la delega ai lavori pubblici, un'operazione importante e soprattutto un impegno mantenuto da parte di città metropolitana. Assolutamente sì, sappiamo tutti come su quel pezzo di territorio il problema della viabilità legata alla chiusura delle gallerie di porte sia stato un problema molto sentito. Per tutto il 2022 le gallerie sono state chiuse per degli importanti lavori di manutenzione straordinaria che hanno visto impegnata la città metropolitana in un investimento di oltre 730 mila euro. A questo abbiamo affiancato un altro investimento da 475 mila euro per il rifacimento complessivo degli impianti di ventilazione e per installare una tecnologia innovativa da un punto di vista del controllo da remoto di tutta quella che è l'impiantistica elettrica. Un intervento appunto da 475 mila euro che insomma fa sì che su quel pezzo di territorio, su quelle infrastrutture, su quelle due gallerie città metropolitana nel giro di un anno e mezzo abbia investito 1 milione e 300 mila euro. Sono risorse importanti, sono risorse che pensiamo diano segnare di attenzione da parte di città metropolitana a quel territorio. Sappiamo che ci sono stati diversi disguidi e che purtroppo i cittadini e le cittadine hanno avuto un anno difficile per quello che riguarda la viabilità. Ma ci siamo mossi in maniera repentina per garantire la riapertura delle gallerie in piena sicurezza rispettando tutti gli standard normativi e per dare un servizio che sia davvero importante, che sia risolutivo per quello che riguarda il futuro del territorio. Sulla strada provinciale 23 del Sestriere, nel tratto da Sestriere verso Cesana, un altro importante investimento, una strada che ha riaperto per il momento a senso unico alternato ma lì la situazione era altrettanto grave. Sì, stiamo parlando di Champlà, da appunto lato Val di Susa, anche lì un intervento davvero molto atteso e molto importante per sistemare tutto lo fronte della montagna sul quale insiste la strada provinciale 23. Anche lì abbiamo aperto la strada a senso unico alternato la settimana scorsa proprio per agevolare il più possibile Sestriere, Pragelato e tutti i comuni che vivono di sport invernali, che fanno del turismo non solo il loro fiore all'occhiello ma soprattutto la loro leva maggiore per quello che riguarda lo sviluppo economico. Parliamo di turismo invernale ma anche estivo, l'anno prossimo sulla 23 passerà il Tour de France che sarà il Sestriere e anche in quel caso in tutta la Val Chisona importanti investimenti sulla riasfaltatura di questa provinciale 23. Assolutamente sì, quando l'anno scorso incontrammo i sindaci del territorio proprio per condividere con loro il fatto che le gallerie di porte sarebbero rimaste chiuse per molto tempo, ci eravamo impegnati però a dare una manutenzione straordinaria molto importante di tutta l'SP23. Ecco, questo si è tradotto in un investimento di un milione di euro in asfaltature, 12 chilometri lineari di strada asfaltata che hanno sicuramente agevolato di molto la viabilità locale che sicuramente sono un biglietto da visita molto importante per tutti i turisti che vorranno andare a trascorrere del tempo allegro e spensierato sulle montagne del Torinese.